Ciao ragazzi, bentornati di nuovo nel mio canale Oggi vediamo come rendere nascosti i file su Linux Io sono su Ubuntu Linux, però questa procedura è valida anche per altre distribuzioni Ulteriore premessa, la procedura che vi sto facendo vedere è valida anche per le cartelle Io la proverò solamente su un file, però la procedura è identica Qui abbiamo un file chiamato test Se io voglio renderlo nascosto, a differenza di quello che succede su Windows Che con il tasto destro c'è praticamente un'impostazione nel menu contestuale Dove rende possibile il nascondere il file Qui su Linux non è così che funziona Su Linux basta rinominare il file mettendo, anteponendo al nome un punto Faccio il rename e vedete che il file è sparito Per vedere il file nascosto tramite il file manager Quindi andiamo nella scrivania Qui vedete, no scusate, sul menu qui con i tre puntini C'è una spunta da abilitare, mostra file nascosti Nel momento in cui io faccio mostra file nascosti è nel file manager e sulla scrivania mi compare il file test Se io non voglio rendere visibili i file nascosti Vado a deselezionare questa impostazione Mentre per quanto riguarda il terminale Apri il terminale qui Se io vado a fare un ls vedete che il file punto test non c'è Per elencarlo, quindi per renderlo disponibile Nel listato basta fare meno a A sa per all Cioè sto dicendo al terminale farmi vedere tutti i file Quelli nascosti e quelli non nascosti Vedete qui compare il file meno test C'è anche un altro file nascosto, non mi ricordavo di averlo E quindi la visualizzazione di tutti i file con la flag meno a È disponibile anche sul terminale Bene ragazzi, questo è quanto Io vi saluto, vi invito a mettere un bel like al mio video Spero che questo video vi sia piaciuto Iscrivetevi ovviamente al mio canale e attivate la campanella Grazie e alla prossima